La morte di Alexei Navalny è l'ultimo atto di macelleria compiuto da Vladimir Putin che a questo punto evidente rappresenta la massima minaccia alla pace e alla sicurezza in Europa dalla seconda guerra mondiale e che ha reso la Russia una potenza che ricorda molto la Germania degli anni 30 e cioè una potenza con un piano imperialista che è disposta per realizzarlo a tutto praticamente, a qualsiasi tipo di violenza sia all'esterno dei propri confini che nel proprio paese. Eppure c'è un pezzo di Occidente che non riesce a chiarire questa visione. Trump che guarda Putin, non dico con simpatia ma insomma senza particolari preoccupazioni, da un lato ma anche un pezzo della nostra opinione pubblica che fa cose abbastanza singolari. Ed è proprio di questo che voglio parlarvi oggi che il 19 febbraio 2024 io sono Ivan Scalfarotto, questa è la versione di Ivan e noi andiamo a incominciare. Io sono Ivan Scalfarotto e questa è la versione di Ivan, una storia al giorno, da lunedì al venerdì, rigorosamente dal mio punto di vista. La scelta dell'argomento di questo podcast ogni mattina è una delle sfide che mi trovo davanti, però mai come oggi devo dire che la decisione di parlare di un certo argomento era praticamente fuori discussione e l'argomento è la morte di Alexei Navalny. Un po' per una doverosa sosta di riflessione e un doveroso omaggio alla persona di Alexei Navalny che è stato un uomo estremamente coraggioso, un uomo che ha deciso di dedicare la sua vita alla sua lotta per la libertà. Sappiamo tutti che Navalny era all'estero e avrebbe potuto benissimo continuare la sua battaglia essendo diciamo più o meno sicuro della sua incolumità perché sappiamo benissimo che Putin non ha mai avuto problemi a uccidere oppositori anche lontano dalla Russia, il caso di Livtynienko ne è la dimostrazione più evidente. Ma Navalny ha deciso deliberatamente di rientrare nel suo paese, di farsi arrestare e di attraversare tutte le avventure, tutti i momenti complicati, la perdita della libertà, i processi, la detenzione in luoghi terribili come quello in cui è morto. Ecco, è stata una decisione consapevole perché la sua battaglia politica ai suoi occhi non poteva che essere combattuta che stando vicino alla sua gente, ai russi per la cui libertà combatteva e quindi di questo dobbiamo ovviamente tenere conto. E poi perché bisogna dire in modo chiaro quali sono le caratteristiche della dittatura di Putin che è una dittatura spietata e che tra l'altro non ha neanche più voglia, diciamo così, di nascondersi. Mi sembra che gli assassini che Putin ordina siano talmente sfacciati, talmente evidenti. Pensiamo a Prigogin, il capo della Wagner, il cui aereo è saltato per aria. Non c'è più nemmeno il pudore di provare a tenere nascosta la firma di questi omicidi, di questi assassini. E c'è da dire che Navalny aveva preconizzato la sua morte. Il foglio è uscito, credo, nell'edizione di sabato, il giorno dopo la morte di Navalny, dedicando tutta la sua prima pagina a queste frasi pronunziate appunto dall'oppositore di Putin, tratte dal documentario che porta il suo nome, che ha vinto l'Oscar nel 2022, nel quale appunto Navalny diceva Il mio messaggio, se dovessi essere ucciso, è semplice, non arrendetevi. È una cosa molto ovvia da dire, non avete il permesso di arrendervi. Se dovessero decidere di uccidermi, vuol dire che siamo incredibilmente forti. Dobbiamo utilizzare questo potere per non rassegnarci, per ricordarci che siamo un grande potere che è stato oppresso da questi ceffi. Ci capita di non avere davvero la consapevolezza di quanto potere abbiamo, di quanto possiamo essere forti. L'unica cosa che serve al male per trionfare è che il bene non faccia nulla. Quindi non siate inerti. E devo dire che io stesso, appena ho saputo di questa notizia che ho trovato terribile, ho deciso di scrivere naturalmente qualcosa, di fare un tweet. E in questo tweet ho detto sostanzialmente che quello che mi auguravo è che questo fosse uno di quei casi in cui il martire, la persona uccisa, fatta oggetto di martirio, perché non so come altro definirlo, diventi più pericoloso da morto di quanto era da vivo. Perché in alcuni casi succede così. Certo, purtroppo i precedenti non aiutano, perché a partire da Anna Politkoskaya, è uccisa in quel modo e anche lei, sappiamo bene che quella, in quel caso è stata vittima direttamente di un omicidio di Stato. Ecco, anche nel caso di Politkoskaya, poi purtroppo non è seguita una ribellione o certamente questo non ha toccato il potere di Putin. Però io spero che in questo caso qualcosa succeda e soprattutto poi che ci sia una presa di coscienza anche in Occidente. Devo dire che non sono particolarmente ottimista, nel senso che poi dovendo osservare quali sono state le reazioni dell'opinione pubblica italiana, certe preoccupazioni che nutriamo per la capacità di Putin di trovare soprattutto nel nostro paese degli accoliti, dei simpatizzanti o quantomeno dei non antipatizzanti permane in tutta la sua gravità. Nel senso che, certo, le forze politiche si sono schierate tutte, anzi direi quasi tutte, perché naturalmente anche in questo caso la Lega non si è smentita. Crippa, il vice segretario della Lega, ha fatto un incredibile tweet, anche lui, o un'incredibile agenzia, insomma si è pronunciato il giorno della morte di Navalny dicendo una cosa surreale, cioè, beh, è troppo presto per attribuire responsabilità a qualcuno, bisognerà aspettare, bisognerà capire, classico modo per negare l'evidenza dei fatti. Comunque questo, insomma, non smentisce, non cambia il fatto che la Lega ha sempre posizioni sulla Russia che sono quanto meno ambigue e che certamente riportano alla mente posizioni che Salvini ha espresso in modo chiarissimo mettendosi le magliette con Putin o dichiarando che avrebbe scambiato due mattarella per mezzo Putin, ecco, bisognerebbe che quelle dichiarazioni non le scordassimo mai. Ma poi, in realtà, quello che preoccupa ancora più profondamente sono le reazioni sui social media, perché quando poi ho fatto io stesso un altro tweet nel quale ricordavo l'iniziativa di Davide Romano, il direttore del Museo Ebraico di Milano, che ha detto intitoliamo la strada del consolato russo a Milano ad Alexei Navalny, così che ce l'abbiano sulla carta intestata, così che sappiano sempre che Milano non dimentica, sui miei social media c'è stata una reazione di un sacco di gente che, per esempio, mi ha ricordato altre situazioni internazionali gravi, mi ha proposto di intitolare strade ad altre persone, naturalmente non sono mancati quelli che hanno attaccato Renzi per l'Arabia Saudita, perché quelli non mancano mai, ma poi tutta un'altra serie di situazioni, a partire dalla crisi israelo-palestinese, per cui mi hanno consigliato di cambiare il nome della strada del consolato israeliano e cambiarla in un altro modo, ma insomma si tende a poi cambiare l'oggetto della conversazione in modo da sminuire di fatto quella che è la situazione in Russia. C'è un pezzo dell'opinione pubblica italiana che pensa che Putin non sia la più grave minaccia alla sicurezza e alla pace in Europa e che sia una cosa che forse non dispiace così tanto, comunque non preoccupa in modo così profondo. E io invece credo proprio che questa reazione di questo pezzo dell'opinione pubblica italiana sia veramente un problema. Mi fermo qui, vi do appuntamento domani. Avete ascoltato la versione di Ivan, un podcast di Ivan Scalfarotto ispirato dall'omonimo libro edito dalla nave di Teseo.